Attivare tutte le iniziative necessarie senza disperdere le azioni messe in campo. E questo l'obiettivo della diocesi di Fano Fossumbrone e Caglipergola, che vuole sostenere in modo concreto ed efficace le persone colpite dalla guerra in Ucraina. Questa mattina si è tenuto un incontro di coordinamento a cui hanno partecipato i vicari, gli uffici pastorali, le associazioni eleicali e di volontariato presenti sul territorio. A promuovere e coordinare le variazioni che verranno intraprese sarà la Caritas. Il direttore è stata costituita una cabina di regia, vi siete subito attivati. Che cosa è emerso dal tavolo di coordinamento? Questa mattina insieme a tutti gli uffici della diocesi abbiamo sentito la necessità di fare squadra, di metterci insieme per affrontare quella che può essere comunque un'emergenza che arriverà anche sul nostro territorio e per riflettere su che cosa sta avvenendo in Ucraina e in Europa. Rispetto a questo abbiamo concordato e ci siamo confrontati con gli altri uffici su come attivare dei percorsi di aiuto, sostenibilità e sostegno alla popolazione ucraina e anche le eventuali necessità di accoglienza nel nostro territorio. Quindi queste sono le priorità? Accoglienza e raccolta fondi? Sì, in rete con la Caritas nazionale, in rete con gli organismi della Chiesa Cattolica lanciamo una campagna di raccolta fondi per aiutare le popolazioni ucraine che sono attualmente sfollate al di fuori del paese, nei paesi limitrofi e poi anche una serie di iniziative di raccolta di disponibilità nel territorio per le eventuali accoglienze e il sostegno alla comunità ucraina. Le disponibilità ad accogliere i profughi possono essere comunicate tramite mail o chiamando questo numero di cellulare da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Nel frattempo si attendono dal governo tramite la prefettura indicazioni sullo status giuridico burocratico dei profughi che arriveranno in Italia in modo da attivare le specifiche forme di protezione, accompagnamento e inclusione nella rete sociale locale. A riguardo la diocesi è disponibile a orientare e fornire tutte le informazioni. Don Alessandro, aiuti materiali ma anche momenti di preghiera? Sicuramente, la preghiera che vuol dire anche manifestare la propria solidarietà e la propria vicinanza perché non dimentichiamo che le persone che stanno qui a Fano e gli assistenti familiari per tanti anziani e vivono momenti drammatici perché hanno i loro familiari o proprio in prima linea a combattere o che fanno parte delle tante persone che stanno scappando dall'Ucraina. Per cui noi già altre volte, non soltanto in occasione adesso della guerra, abbiamo questo rapporto con il Don Vladimir che oltretutto è il direttore della Caritas Ucraina per l'Italia e si ritrova a pregare insieme alle 14.30 tutti i sabati. E da sabato 5 marzo in poi, come ha precisato Don Alessandro Messina, la comunità si riunirà nella chiesa di San Giovanni Bosco in via 4 Novembre a Fano, messa a disposizione dagli orionini. Il nostro invito è a pregare con loro e a far sentire la nostra vicinanza. Io ho potuto vedere queste donne commosse soltanto perché eri passati 5 minuti a dirgli coraggio, vi siamo vicini, vi aiuteremo. Quindi c'è anche questo bisogno di far sentire la nostra vicinanza e di non considerare queste persone soltanto come persone che vengono a lavorare da noi, con quell'espressione anche, secondo me non bella, chiamarle badanti. perché dico assistenti familiari. E loro sono contentissimi di vederci, sono contenti e esprimono questa loro gioia. E certo che poi entrando in contatto con loro, andando a pregare con loro, ognuno poi di noi prendendo contatti diretti con la comunità ucraina nel territorio, potrà anche pensare di fare altri gesti di solidarietà che vuole fare, come portare cibo o altro, chiedendo a loro quello che di più preciso c'è bisogno.